Siamo nel post partita della seconda gara di campionato di A1 Sartana contro CCC Viareggio, una gara che termina 3-1 per gli ospiti, 3-1 per il centro giovani calciatori, siamo con il capitano Romeo Danna. Qual è il tuo commento su una partita che è stata molto combattuta da parte di entrambe le squadre, hanno tirato entrambe da tutte le posizioni, miracoli, tante volte da entrambe le porte. Due squadre che hanno creato tantissimo gioco offensivo e entrambe le squadre hanno dimostrato grande solidità nel pressing, nella difesa a uomo in tutto il campo. Sì, io penso così a caldo che sia stata una partita molto bella, molto combattuta e venire qua a Sarzana e uscire con i tre punti è un risultato secondo me molto positivo per noi. Venivamo da una sconfitta pesante in casa da un 4-0 con l'Odi ma sapevamo che lavorando più duramente in settimana e migliorando le cose che abbiamo sbagliato potevamo venire qua e giocarci la partita. È stato così, complimenti a noi perché stasera abbiamo dimostrato di essere una squadra e spero che questo sia un inizio per noi e un proseguio ci sia. Assolutamente, è un risultato molto positivo questo dopo come dici la sconfitta in casa che diciamola era contro una squadra difficile, una squadra che punta al massimo quest'anno in l'Odi. Qui il Sarzana come ben dici non era facile, è un risultato importante anche per la morale che ora può puntare in alto, in campionato. Ma noi pensiamo partita per partita, prossimo sabato abbiamo un impegno molto importante in casa contro il Sandrivo, lo prepareremo al meglio usando anche questa energia positiva che prendiamo da questa partita. Siamo una squadra relativamente giovane con un sacco di viaregini, con due stranieri che Pablo è con noi da tempo, Fede si sta integrando benissimo e niente andiamo passo per passo con molta umiltà, testa a cassetta, lunedì ricominciamo per portare altri tre punti in saccoccia.